Germania senza qualità Perché la Germania si trova in una fase di transizione a essere ottimisti tra quello che immaginava essere fino a 3-4 anni fa, cioè prima del Covid e prima della guerra in Ucraina, una grande Svizzera dove tutto è tranquillo, lo status quo è permanente, si vive abbastanza bene, solo che oggi in Germania si sono accumulati almeno 3 grandi problemi che ne scuotono le fondamenta. Primo di fondo la questione migratoria, oggi in Germania più di un quarto della popolazione è di origine straniera e una buona parte di questa popolazione vive abbastanza per conto suo, in comunità più o meno parallele e protette, molti non parlano una lingua, Insomma questo ha creato un clima piuttosto teso, diciamo così, fra i vari gruppi sociali, fra i vari gruppi etnici che ha fra l'altro dato alimento a questo partito di destra nazionalista piuttosto estrema che si chiama AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa per la Germania. Il secondo elemento è stato l'impatto del Covid che non è stato solo, come dappertutto, sanitario ma sociale e mentale. Con il Covid è esplosa questa mania del complottismo, il Covid come una invenzione micidiale di qualche gruppo o qualche cabala naturalmente ebraica e cose di questo genere, e questa mentalità per cui nulla è come appare in una società qualsiasi che essa sia non può che avere effetti divisivi se non devastanti. E poi la guerra. La Germania pensava di essersi guadagnata la pace eterna, non nel senso della morte ma della vita, e invece scopre di essere quasi al fronte. Tutto sommato alla crisi economica ed energetica, cioè non c'è più il gas russo, il mercato cinese su cui la Germania aveva puntato già dalla fine degli anni 90 si sta restringendo, guerra commerciale USA, Cina pesa parecchio e poi naturalmente anche un certo crollo di prestigio in ambito europeo e mondiale con una leadership piuttosto autistica come quella del cancelliere Scholz, che infatti alle ultime elezioni ha ottenuto un risultato disastroso, 14%. Poi sulle elezioni torniamo, però volevo mostrare questa carta, che è una delle carte a colori disegnate dall'Arocanali per questo volume ovviamente, è appunto Ex Nord Stream 1 e 2, perché il Nord Stream era un po' il simbolo di questo legame tra la Germania e la Russia, quindi la fornitura energetica dalla Russia saltando l'Europa orientale, Polonia, Ucraina e tutto il resto, che è stato fatto fuori, è stato eliminato durante la guerra e che fa della Germania, l'abbiamo detto in altre puntate, la vera sconfitta, la vera perdente in realtà di questa guerra. Allora qui, la Germania si è rillusa di poter, nonostante di poter rimanere sotto l'ombrello americano, ma di far diventare energeticamente legata alla Russia e commercialmente alla Cina, questa era un'illusione, si è rivelata un'illusione a posteriori. A posteriori è facile dirlo, però sul momento, cioè per alcuni decenni, era un fatto. Certamente la guerra in Ucraina, l'aggressione di Putin ha cambiato completamente la situazione e soprattutto ha trovato un'opinione pubblica, una classe politica, un'intellettualità tedesca completamente impreparata alla guerra, anche proprio da un punto di vista culturale. Insomma, i tedeschi hanno rinunciato a pensare in termini strategici, in termini geopolitici, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi recuperare un minimo di senso della realtà è un percorso piuttosto lungo, nel frattempo succedono varie cose. E allora, intanto voglio tranquillizzare chi è abituato a vedere le nostre trasmissioni e parleremo sicuramente di storia, della profondità storica della questione, ma volevo rimanere un attimo sull'attualità e mostrare quest'altra carta, cioè le basi delle truppe americane in Germania, anche qui sono il simbolo del, come dire, influenza, condizionamento, protettorato degli Stati Uniti sulla Germania. Il motto della Nato era i tedeschi sotto, la Russia fuori e gli americani dentro, ovviamente la Germania. Quindi allora il rapporto tra Stati Uniti e Germania, rimangono un protettorato, devono rimanere sotto, hanno cercato, come dire, di uscire da questo protettorato e non ci sono riusciti, insomma, considerato che abbiamo anche la crisi dell'America dall'altro lato, e vi rimando al tuo approfondimento sul caso Biden, la puntata che abbiamo fatto con Petroni e i vari volumi di Limes. Ecco, allora, Stati Uniti e Germania mi sembra un bel tema. Beh, insomma, se guardiamo indietro all'ultimo secolo, gli Stati Uniti e la Germania hanno combattuto contro due guerre mondiali, l'America, avendo vinto entrambe le guerre, ha contribuito a dividere la Germania, e poi questo è un tema su cui dobbiamo tornare, ovviamente, durante la guerra fredda, e adesso mantiene comunque un certo controllo, perché l'obiettivo strategico americano, da sempre in Europa rimane tale, è quello di impedire un'alleanza, un'intesa, tra Russia in tutte le sue forme e Germania. Oggi come oggi è evidente che dopo l'aggressione russa all'Ucraina, immaginare di ritornare all'intese russo-tedesca è impossibile. E questo, naturalmente, è un grosso successo per l'America. E allora, passiamo un po', apriamo il capitolo storico, direi che occupa buona parte del tuo editoriale, sempre molto importante nell'analisi geopolitica. Abbiamo due questioni di fondo. Una è il problema dei confini, no? Una Germania è un paese senza confini storicamente, e quindi anche delle divisioni interne. E poi abbiamo un problema, definirei, psicologico, di fattore umano, di concezione, insomma, stessa. Allora, cominciamo con quella dei confini e volevo mostrare un po' di carte che troverete appunto in questo volume. L'impero tedesco, tedesco 1871-1918. Ricordo che nasce a Versailles l'impero tedesco, e questo è sintomatico. E tu hai dedicato una serie di puntate di Geostorie proprio alla Germania, e troverete il link ovviamente nella descrizione, anche qui sopra. E quindi l'invito è a rivedere queste bellissime puntate di Geostorie appunto di Lucio Caracciolo. Poi, volevo mostrare ancora questa la carta, invece, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo spostamento della Polonia verso ovest, quindi questi grandi mutamenti di confini che avvengono sia dopo la Prima Guerra Mondiale che dopo la Seconda Guerra Mondiale. E qui, la carta del 1938, degli 87 milioni e più di tedeschi in Europa. Certo. E allora? Eh, queste tre carte si legano benissimo, proprio ricominciando da qui. Tu dici la Germania senza confini, certo, ma la Germania, come abbiamo visto, come Stato nazionale o apparentemente tale, nasce nel 1871 in seguito alla vittoria contro la Francia nella guerra del 1870-71, ma prima, e direi praticamente dall'antichità via Medioevo fino all'età moderna, c'erano i tedeschi più che la Germania, cioè c'erano popolazioni che parlavano più o meno una lingua simile, uniti da fattori culturali, etnici, eccetera, ma sparsi in tutta Europa, sparsi anche in tribù, quelli che i tedeschi chiamano stemme, cioè appunto delle unità che non sono delle vere e proprie nazioni, ma che più o meno sono abituati a vivere in comunità basate su principi germanici di libertà, sostanzialmente un grado di informalità molto forte. Mettere insieme tutte queste tribù ci voleva una Prussia, cioè uno Stato forte che tra 700 e 800 diventa una vera e propria potenza e quindi la carta del Reich che tu hai mostrato nel 1871, in realtà, come abbiamo anche mostrato proprio nella carta, è una Prussia allargata. Possiamo rimostrarla. Eccola qua, vedi la Prussia, questa con le strisce rosse su fondo giallo, che è la matrice della nazione tedesca, poi naturalmente c'è aggiunto la Baviera e tutto il resto, ma fondamentalmente è una Prussia allargata, c'è uno Stato tedesco finalmente potente, anch'esso peraltro diviso territorialmente, che crea il Reich. E lo dico soprattutto per le nuove generazioni, Prussia che non è più nei confini tedeschi, perché adesso è Polonia. La Prussia, essendo molto sparsa, ha una parte di sé, in particolare la Prussia orientale, è diventata in gran parte sovietica prima e russa poi, poi un'altra parte, insieme alla Slesia, è diventata polacca, un'altra parte ha costituito il nucleo centrale della Repubblica democratica tedesca. Lo dicevo perché siamo abituati a pensare, appunto, noi guardiamo molto la Germania con stereotipi, noi abbiamo molto questo stereotipo della Prussia che diventa Germania, giusto per ricordare che la Prussia in Germania non c'è più, insomma, anche fisicamente direi. Allora, poi volevi dire qualche cosa? Ecco, no, quest'altra carta che tu hai giustamente selezionato è molto importante, e questo è il grande trauma post bellico della Germania, il trasferimento, chiamiamolo così, la deportazione di circa 12 milioni e mezzo di tedeschi dalle province orientali verso ovest, perché i vincitori, ma direi più che altro Stalin, avevano deciso di spostare la Polonia verso ovest, dandone una parte importante a est alla Russia e quindi dando alla Russia, o meglio all'Unione Sovietica, un cuscinetto molto più ampio tra sé ed eventuale nemico tedesco. E questo trauma dei cosiddetti fertribene rifugiati è stato fondamentale, tanto è vero che quando si è trattato di negoziare in maniera piuttosto spicciativa l'unità tedesca nel 1990, alcuni tedeschi non di seconda linea immaginavano che si potesse addirittura ridiscutere questa situazione, andare in qualche modo a una forma di superamento della linea Oder-Neisse, quella che separava appunto la Polonia dalla Germania, così non è stato. Ma questo trauma, possiamo immaginare, anche dopo tre generazioni esiste. E allora, hai citato la Germania dell'Est e la reunificazione del 90, che forse anche qui è necessario fare una riflessione. Alle ultime elezioni europee, visto appunto l'alternativa per la Germania che citavi prima, ha vinto, ha dominato le elezioni, soprattutto in quella che era l'ex DDR. Quindi abbiamo due Germanie, rimangono due Germanie, anzi poi ne parleremo che abbiamo altre Germanie, però comunque abbiamo una prima netta separazione ancora tra Est e Ovest, quindi questa reunificazione è fallita, quali sono stati i problemi? Intanto non è stata una reunificazione perché quei due pezzi di Germania sono sempre stati divisi, insomma non c'era uno Stato che era formato prima dalla ex Germania Ovest e dall'ex Germania Est, primo. Secondo, non è stata una unificazione perché è stata di fatto una annessione, cioè la Germania Ovest ha preso nemmeno troppo spontaneamente quello che restava della Repubblica Democratica tedesca, cioè della Germania comunista. e questo problema di fondo di una unificazione, chiamiamola così per capirci che di fatto era un'annessione, pesa ancora, consideriamo un paio di dati, solamente il 2% dei dirigenti di alto livello nello Stato tedesco, nelle istituzioni tedesche, nell'esercito, nelle università è di origine Est. Quindi il 98%, tanto per capire di che cosa si tratta, cioè di annessione, è formato, della classe dirigente è formato da tedeschi di radice occidentale. Se prendiamo poi la proprietà delle abitazioni e degli uffici in Germania Est, più o meno siamo all'80% di proprietà di occidentali che vivono come dei coloni nella Germania Est, creando così qualche problema di comunicazione anche con la Germania Est, con quella che una volta era la Deder, di cui il clima di quella che si chiama Ostalgie, cioè la nostalgia dell'Est, che però non è tanto legata alla Deder, ma è legata a questo senso di risentimento, di forte risentimento, che molti abitanti della ex Germania Est provano nei confronti di questi che vengono percepiti come dei colonizzatori. Allora ne approfitto per mostrare quest'altra carta, la spartizione della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, e vedete con le zone di occupazione che diventano quelle americana, francese e britannica, diventa la Germania occidentale e l'altra, quella occupata dell'Unione Sovietica, che diventa la DDR. Ma il confine tra la Germania dell'Est, tra la DDR e quello occidentale, in realtà non è solo un confine inventato nella Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà c'è anche un confine storico su cui tu sottolinei. E' importante, qui sono i fiumi, il Reno, l'Elba, quelli che insomma dividono, e c'è una questione diciamo culturale e politica che risale all'Impero Romano, fin dove sono arrivati l'Impero Romano, il mondo latino, e quindi qui entriamo nelle altre divisioni che ci sono nella Germania. E a un certo punto nell'editoriale si parla della vera Germania e quella che in realtà è tra Reno e Elba. Che significa? Questa non è una tesi dell'editoriale, è la tesi di uno storico britannico molto puntuto, Hose, il quale sostiene che in realtà tutto quello che si trova a destra del fiume Elba, che era grossomodo il confine fra DDR e Repubblica occidentale, non è mai stato davvero tedesco, è stata una zona di confronto e di scontro tra popolazioni e tribù slave da una parte, piuttosto che germaniche dall'altra. E dal suo punto di vista l'unica vera Germania è quella tra Reno e Elba, cioè quella per capirci più o meno romanizzata, fin dai tempi di Cesare, di Augusto, di Tiberio e quanti altri. Questa tesi peraltro sia pure da lui posta in maniera un po' apodittica e condivisa da molti. Lui anche ricorda che quando Hitler prese il potere nel 1933 la sua base elettorale era largamente situata proprio nella zona oltre l'Elba, nel cosiddetto Ost-Elbien, chiamiamola Ost-Elbia in italiano, ma non c'è una parola definitiva su come tradurre Ost-Elbien e questo vorrebbe dimostrare che c'è un problema strutturale, non è una questione contingente oggi fra occidentali e orientali, come dicono i tedeschi Vessis, che sarebbero gli occidentali e Ossis, è una questione storica di lungo periodo fra due pezzi di Germania o come volete voi, che non si sono mai davvero trovati bene. E' sintomatico la battuta che circola in Germania e che tu ripeti nell'editoriale e che tocca anche la questione migratoria, che cos'è un tedesco dell'Est. La differenza fra un turco e un tedesco dell'Est è che il turco parla tedesco e lavora. E quindi questo ci dà un po' l'idea di questa divisione anche sociale, culturale e ci ricorda pure tra gli immigrati che tu dicevi c'è una fortissima comunità turca che pone poi tutta una serie di questioni anche geopolitiche interne alla Germania ma anche esterne, su cui poi rimando anche al volume che ovviamente tratta tutte queste Germanie. Perché abbiamo detto c'è questa Germania tra Eno e Elbia, ma poi c'è anche la Baviera e poi vogliamo allargarci anche ai tedeschi dell'Austria, della Svizzera. Insomma, la Germania è ancora, questa terra di tedeschi è ancora vaga. E' molto plurale, diciamo così, per essere abbastanza gentili, ma appunto è uno dei problemi di fondo questo. La mancanza di un'identità storica nazionale di lungo periodo e la mancanza dell'impero perché poi con la sconfitta nella seconda guerra mondiale la Germania se l'è scordato crea una zona che per un lungo periodo sembrava una zona in qualche modo pacificata, appunto una grande Svizzera si diceva. Ma la Svizzera è una cosa, la Germania è un'altra e questo si vede ogni giorno di più. La divisione tra le due Germanie non solo non si è attenuata, ma direi che si sta accentuando. Tu citavi prima il dato elettorale dell'AfD, che è impressionante, in gran parte, anzi in tutti i lender della Germania orientale, l'AfD è il primo partito con percentuali che vanno anche oltre il 30%, ma poi ci sono anche i nazionalisti di sinistra, come il partito della signora Sala Wagenknecht oppure anche quello che resta della Linke, insomma messi insieme i nazionalisti di destra e di sinistra in Germania est sono una buona metà e siccome si voterà in settembre in tre di questi lender dell'est, molto probabilmente si dovrà arrivare da parte dei partiti tradizionali, penso soprattutto ai democristiani, alla CDU, almeno a livello locale a qualche forma di intesa con l'AfD, quindi una legittimazione del nazionalismo di destra nel sistema tedesco. Allora, tocchiamo un po' il problema dell'alternativa per la Germania. Allora, è un ritorno al nazismo nella Germania, la butto così semplice senza fronzoli, è appunto invece una protesta interna tedesca contro l'altra Germania, è un voler ritornare alla storia, uscire da quest'idea della grande Svizzera fuori dalla storia, insomma che cos'è l'alternativa per la Germania, se si può definire oggi in maniera chiara? È un partito che intanto è molto recente, ha una quindicina d'anni alle spalle, però si è già dimostrato una forza decisiva, è il secondo partito ormai, il Germania dopo la CDU, che ha avuto varie radici, originariamente erano dei professori universitari che non volevano l'Euro, poi piano piano su questo ceppo accademico monetaristico si è accumulata una protesta molto ampia che comprende gente che una volta era di estrema sinistra, ex comunisti anche, ex DDR e gente di estrema destra, compresa una frangia piuttosto visibile e rumorosa che usa simboli nazisti, in particolare in Turingia, il capo lì dell'AfD, un signor Höck, che è palesemente un nazista, nemmeno troppo mascherato, però una cosa è considerare il nazismo storico, una cosa è considerare l'AfD, sono cose per fortuna almeno per ora ancora abbastanza diverse, ma certamente è un partito che raccoglie consensi da varie parti, ormai l'ideologia conta poco, ma su un punto riesce a dare il senso di sé, e cioè la lotta contro l'immigrazione. Questi signori vorrebbero non solamente impedire che arrivassero nuovi flussi, tipo quelli che la signora Merkel aprì nel 2015, e dovette richiudere subito le porte perché vedeva che non ce la faceva, ma vorrebbero rimandare a casa una buona quota degli immigrati. Allora, tocchiamo un po' il tema, come definirlo, cultural-psicologico, cioè il tema della rimozione di tutto quello che è successo in Germania per quello che riguarda il ricordo del nazismo, l'olocausto, Auschwitz e compagna bella. Allora, c'è un dato interessante che c'è nell'editoriale, la libertà di espressione, cioè il condizionamento che c'è stato anche su questi concetti, che sono concetti vietati, anche se sono parole e concetti vietati in Germania. E quindi a Trenti. E quindi a Trenti crea una cappa per cui c'è un sondaggio, per cui la libertà, molti non si sentono liberi di esprimere la propria unione, e quindi diciamo che stanno poi in forte crescita tra l'altro negli ultimi anni. Ma allora, la Germania si autodefinisce una democrazia protetta, che è un tipo un po' particolare di democrazia, nel senso che esiste attraverso il governo, non attraverso la magistratura, un controllo sulle deviazioni rispetto a quello che viene definito l'ordine liberal-democratico. Il che vuol dire, specialmente negli ultimi anni, non semplicemente andare a guardare le formazioni neonaziste, prima ancora i comunisti. Il partito comunista nella Germania Ovest fu vietato nel 1956, in quanto non pertinente all'ordine liberal-democratico, in parole povere, in quanto agente della Germania Est. Sono stati presi di mira anche una parte dei militanti e dei dirigenti della FD, la corrente più estrema, la cosiddetta ALA, che effettivamente, come dicevo, contiene in sé una buona quota di nazisti, i quali vengono sottoposti al controllo del servizio segreto interno, che su mandato del ministro dell'interno, quindi del governo, non deve solamente vedere queste formazioni in quanto tali, ma deve vedere tutto ciò che, anche senza violare il codice penale, potrebbe stimolare una infezione, chiamiamola così, anticostituzionale all'interno della Germania. Risultato, c'è una polemica molto forte tra, per esempio, il nuovo direttore del servizio segreto interno, che è succeduto a un suo predecessore, che poi si è rivelato uno piuttosto di estrema destra, e quindi adesso è controllato dal suo successore, sul fatto che il suo modo di interpretare questa democrazia protetta è un po' troppo invasivo, nel senso che limita la libertà di espressione, crea un certo conformismo, che poi è a sua volta alimentato da tutte queste correnti, un po' woke e quant'altro, che sono penetrate anche in Germania. Per cui c'è un politicamente corretto, che come tutti i politicamente corretti, favorisce gli estremismi. E questo è un problema piuttosto profondo. Tu citavi prima la questione della libertà di espressione. Secondo una statistica riconosciuta, oggi il 44% dei tedeschi pensa di non poter esprimere proprio il suo pensiero politico liberamente contro un 40% che pensa di poterlo fare. C'è una cosa che non ho capito. Germania protetta, ma protetta... Democrazia protetta. Democrazia protetta. Germania protetta da se stessa? Sì. O da risa? C'è ancora un condizionamento esterno sulla Germania o è talmente introiettato che sono i stessi diritti? Allora, è chiaro che gli americani, al loro modo e in modo molto diverso, gli altri alleati hanno tentato qualche forma di rieducazione che ha avuto da parte americana un certo successo, anche perché gli americani avevano risorse anche materiali di soft power da offrire. nel senso appunto di creare il senso di una fine della storia, di una pace e quant'altro che ha funzionato magnificamente. Però il controeffetto è che si è creato anche prima di tutto un senso di perdita della realtà. Infatti la sorpresa per la guerra, anche per il modo in cui si è reagito al Covid, tutto quanto adesso pare come venire da Marte. In realtà esiste una germanofobia tedesca e questo è il punto. I tedeschi sono stati abituati per molto tempo ad avere paura di se stessi e questo è un fattore piuttosto particolare. Non apriamo un discorso, ma vi rimando al volume, anche ai volumi precedenti di Limes, sulla paura della Germania negli altri paesi europei che permane, visto il momento della riunificazione, Mitterrand, ma insomma rimando alle altre puntate che abbiamo fatto. Mi dice una paura della Germania all'interno della Germania e di fuori. Però vorrei toccare un attimo la questione della guerra in Medio Oriente, perché questo tocca anche una questione della Germania. Nel senso, lo ha ricordato la Merkel e lo ha ribadito Scholz, Israele è una ragione di Stato della Germania. È parte della ragione di Stato tedesca, cioè sostanzialmente tutto quello che è successo, cioè lo sterminio degli ebrei, obbliga la Germania a considerare Israele parte di sé, quindi sostanzialmente noi stiamo a prescindere con Israele e questo oggi è un po' complicato. Infatti quindi c'è anche questo paradosso per cui no, di fronte anche ai messagri dei palestinesi, la Germania comunque non può cambiare la propria politica. Anche questo penso sia... Sì, e questo è una forma di autolimitazione della sovranità paradossalmente. Non dimentichiamo che da un punto di vista strategico i sottomarini tedeschi sono dotati di armi atomiche e sono stati ceduti a Israele proprio per proteggersi. E allora, ultimo tema è sempre tocchiamo l'Italia in generale. Volevo mostrare questa carta, l'ottava carta a colori dell'editoriale del volume di Limes, il Limes germanico italiano. Cioè ci dobbiamo sempre poi ricordare il legame, quando parliamo di Germania parliamo anche di Italia. Eh sì, quello che succede in Germania si riflette inevitabilmente su di noi, intanto dal punto di vista economico. Questa carta ci mostra che il confine meridionale della Germania da un punto di vista economico è l'Italia settentrionale. Quindi aspettiamoci degli effetti immediati sul nostro paese. E allora, io vi ricordo il volume di Limes Germania senza qualità da sabato 7 luglio in edicola, libreria e online sul sito per gli abbonati ovviamente. vorrei appunto mostrare di nuovo la copertina Germania senza qualità con il disegno sempre in copertina di Laura Canali. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale se potete sostenere questo canale. Abbiamo anche la nuova app, il nuovo sito, insomma, tante altre cose. Continueremo a parlare di questo volume, ma intanto grazie a Lucio Caraccio e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi.